allora prenditi la roba a dove si pia quella torcia di via con e con e presa ma perché tu c'è quello figo io ce l'ho sfigato poi che devo fare poi lo prendi prenditi questa torcia piola presa poi prendi questa qua perché fai questo perché guardi sopra e sotto ah così ok 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 poi pia tutto pia ah beh pia tutto cambia mano con la rotella ok ancora cambiano ancora è la cura da g o che l'ho buttato ho preso no non lo prende ama quella la spirit box come si accende la luce con il tasto sinistro madonna mia ma che è sta luce scarica via le chiavi via via le chiavi permesso bussa 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 come si chiama è aperto è aperto come si chiama walter dyer walter dyer io vado con rex vai avanti rex vai avanti tu ah allora come funziona eh funziona che aspetta fammi ah beh ma la tena aperto walter mi senti ma devo prendere qualcosa per parlare no no qual'era? v no iyi ma io non ce l'ho la v . ma non ce l'ho nel tastierino capito ma devo cambiare wow c'è stata una cosa strana dal muro è importante ah beh strellate voi che almost ciao stefano buonasera il fantasma il fantasma il fantasma come sia per la cantina va tutte e tre moriamo dai tu moriamo tutte e tre ciao andrei buonasera per botta parla da solo zitto 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 c'è un cazzo c'è un cazzo sicuro che non c'è un cazzo hai aperto qua oh hai aperto c'era un pezzo di osso come un pezzo di osso ce l'ha lo skip per correre vabbè stiamo fuori è normale che si abbassa la temperatura aspetta uso questo uso la torcia viola quella che hai cacciato fuori è fatto per vedere sbobbate ciao leo buonasera ciao leo no leo non ci ho parlato perdonami eh toglie la luce però non c'è un cazzo non c'è tocca tocca trova boh qua ha tirato un cucchiaio qua dovrebbe essere più o meno la zona comunque oh 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 sta a buttare piatti metterna sto stronzo che è che a buttare i piatti è il fantasma il fantasma si 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 a noi stanno i piatti non ci stanno i piatti non ci stanno i piatti guarda qua a buttare i piatti si si oh è arrivato a 5 cristiana a 5 ma sei sicuro che è 5 dai che è 4 no no tre e mezzo tre e mezzo allora ancora no comunque la temperatura è sempre uguale eh guarda la guarda che guarda che quadro maxson questo vedi guarda il quadro che c'è lo devo controllare no no non dice niente Volta a dire dacci un segno ma non stai a parlare in gioco eh ma non stai a parlare in gioco Volta a dire dacci un segno Volta a dire dacci un segno e come faccio come faccio devo buttare con G con G G G butta con G to datemi qualcos'altro utile no dai l'MF che si fa con l'MF che c'hai Fardy scusami eh l'MF no no c'ho torcia MF allora Max ora vede questo questo qua è il termometro ci devi andare sempre a giro dammi a me l'MF Fardy eh come lo ho io come lo ho io come lo ho io ecco me faccio a covacciare non mi sa ma ti hai parlato in game hai parlato comunque eh avevi parlato comunque ho parlato mo 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 si si stai parlando mo così eh vabbè oramai ho fatto ma Max ho parlato in game te la tiro io assolutamente dai mo un'altra volta devo cambiare san Dio via sta con vent' terra ma perché mi devi fare parlare con me si ingazzano con me no dammi la spirit eh sta qua sta qua sta qua sta qua qui 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 sempre qui sempre qui allora andiamo qui oh così 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 come si chiama come si chiama ehm ma perché sto accucciato water dyer water dyer non lo so nemmeno di water dyer vai water dyer tirate sopra tirate sopra e come mi tiro sopra con C con C sempre con C sempre con C water dyer oh se devi dire vedi al fantasma gli devi dire water dyer mi senti water dyer water dyer mi senti 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 water dyer mi sent che sennò sarebbe arrivato ma ancora non attacco questo questo qua è un pezzo di merda che continua a lasciare qualcosa ha lanciato il piatto eh ma eh ma parla da solo dobbiamo lasciare da solo ma no 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 spiega spiega ciao manue buona sera allora al camion ti dice che il fantasma oh comunque c'è una nebbia c'è una nebbia qua eh quella è la temperatura eh allora Maxo eh se tu vai dentro il il camion ti dice che il fantasma parla parla soltanto oh figlio di puttana accendi la luce accendi la luce oh che è che è ok allora siamo finiti aspetta la luce aspetta oh cambia cambia stanza dai cambia caffè oh che cosa stai a parla in game eh ma che te lo fa oh Walter Dyer gula mamma eh eh mi senti Walter Dyer oh l'emf ha fatto in mezzo l'emf ha fatto in mezzo allora io sto ancora sui 3 gradi non c'è va a zero oh aspetta oh aspetta cazzo stavo a 2 però non c'è va a zero eh ha tirato un altro cucchiaio rega dobbiamo lasciar da solo Max Cristiano allora Maxo in pratica devi parlare da solo col fantasma eh così basta oh l'emf l'emf a 3 e mezzo gli devi dire eh Walter Dyer quanti anni c'hai mi senti dammi insegno sta cos'è qua siamo pronti Manu siamo pronti ciao 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 figli di puttana tu devi parlare Walter Dyer mi senti? va a pia la gamba va a pia la gamba va a pia va a pia va a pia si raga però no c'ho le mani scopate io raga però si è parlato non si sente Walter Dyer mi senti? yes siete voi figli di puttana comunque si sentivano le anze aperte si sentivano cioè che apriva le anze oh che lo spraio cazzo stai a pulire la cucina ce la devi attiva quella là Maxo che cosa? la 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 spirit box quella là c'è la devi attiva per parlare ecco così ce la deve eh ma dopo me la toglie eh vedi che mo me la tolto come lo prevo me la tolto oh 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 che ti sta a fare? io me mudo ciao tocca a voi nooo e ma che dobbiamo fa? chiamai Ghostbuster cioè che devo fa io? ma mi chiamai Ghostbuster che dobbiamo fare? cioè qual è lo scopo? allora l'MF non è quindi si sparra eeeh chi si ha? e niente il cornuto si è mutato e le temperature di congelamento non penso dimmi 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 era per fare la scenica eh la scenica? e le temperature di congelamento ci è andato? no non credo non è arrivato sotto zero ma te quindi ti ha schiattato non ho capito si si leva leva pure MF allora frasciaranno pure da leva allora devi aiuto messo devi andare fuori andate uscite uscite andate dentro dal camere che io ho messo la cam vedete se se sfere di luce farti dalmeno oh 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 corri corri Max corri 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 apri 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 parco di questa buccia è cattivo regà eccolo eccolo se ne fa uno se ne fa uno chi è che se fa eccolo qua l'ho visto me l'ha preso a me aiuto come si esce come si esce come si esce come si esce devi apri la porta apri la porta Maxu come si esce in fuori in fuori col mouse in fuori Maxu ma che cazzo con mouse devi tenere prego scappa 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 corri 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 eh ma mo esce anche per dio gli do una seggiata gli do vieni in fondo al piccino no guitto guitto non voglio scattare guitto no vieni in fondo al pc vieni in fondo al pc vieni qua al pc eh allora premi il mouse eh ti premio sul mouse con il tasto sinistro a posto eh premi la tastiera eh a posto mo se tu vedi una sfera di luce Maxu eh è una cosa che sbrilluce è perché tu non lo vedi? eh no perché noi siamo morti non so dalla live faccia di cazzo ah è vero ma perché si vede nero da te? che cosa si vede nero? lo schermo lo vedo nero io eh che? ho ripremuto mo a posto hai messo verde ho visto una pallina mo qua aspetta mo te lo dico io se hai visto davvero ah sì 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 sferi de luce bravo Max ci ha visto lungo è vero eccolo l'ho visto pure io hai visto? allora mo? che cazzo allora allora maxo premi j j meravide luce allora o è mare o yokai o tai banshee oppure banshee che vai a vede dentro il libro cazzo ma l'hai posizionato a far dentro il libro sì non mi mette per terra maxo devi andare su prove mo sopra prove allora prove ok a posto mo tu devi mette sfera di luce metti sfera di luce con la x ok e devi sbarrare mf a livello 5 mf a dove sta mf a livello 5? a quello mf il primo lo devi sbarrare non con la x pure ultravioletto ok pure ultravioletto tutti e tre vanno sbarrati quale? sbarrati non con la x a posto bravo così eh cioè devi sbarrare ultravioletto e temperature di congelamento temperature di congelamento ok vai mo? a posto mo ma si ha messo pure il libro si ha messo pure il libro togliamo pure il libro no il libro maxo eh tocca a vedere se ci ha scritto perché quello che noi abbiamo sbarrato significa che non è ok capito? quindi mo devo rientrare per vedere il libro se ha scritto esatto 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 e non so perché noi siamo morti eh beh vado a vedere vai ti seguo ma ti do manforte si vai 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 senti ma la porta deve rimane aperta però ti è l'aperta ti è l'aperta non c'è bisogno eh ma si chiude da solo si è chiude da solo si è a pacca di questo che è fardi si è fardo e te l'ha messo la tutto dritto vai tutto dritto tutto dritto tutto dritto corre corre con shift con shift ah poi siamo sul tavolo a destra qua ecco qua porco di dì che è successo ma su tranquillo eh vieni vieni no 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 vieni dietro siamo dietro siamo dietro siamo dietro vieni dietro a sinistra dietro ah poi so vedi tutto dritto dove sta tu sul davanzale eccolo qua sotto sotto mi sa che sotto vettero i piedi tua ma perché era messo là non c'è scritto avevo già scritto no vai eh ma non era piazzato vabbè oh cancelliamolo dai ok ok allora vai esce scicorri cancelliamolo no ragazzi vieni corri corri ok quindi mouse eh uno io che hai qualcosa mi dice che è sbagliato jay jay max jay 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 questo è inutile che lo fai quindi lo tolgo libro leva libro spiritico spirit box e dozzo sarà yokai dai metti allora metti spirit box appunto d'oredozzo metti yokai non ho capito niente ti fa gli altri due eh come faccio devi premereci sopra una volta si con la x a tutte e due si ok e mo e poi selezioni lo yokai ultimo fantasma qualcosa mi dice che non è yokai secondo me non è giusto per no proviamo mo mo chiudi mo fai esca e torna indietro vieni all'entrata del furgone eh ok mo sulla sinistra vedertà serino blu mazzo si premilo ma come facciamo a sapere se abbiamo azzeccato eh mo ce lo dice mo ce lo dice ho capito io mi ho anche giocato a beffo eh e vieni no era a banshee no abbiamo perso si si vabbè abbiamo preso po' dei sordi era temperatore di congelamento chi mi invita chi mi invita chi mi invita che però non mi era mai arrivato eh a punto non si capisce perché mi era arrivato a due gradi però invitate a morloci a a